Il Presidente del Consiglio regionale Vincenzo Niro si è premurato di diffondere le nuove tabelle relative agli stipendi degli inquilini di Palazzo Moffa in vigore dal 1 agosto, ma i conti non tornano per due motivi. Primo, Vincenzo Niro sostiene che la sua indennità netta sarà pari a 8.759 euro, 7.904 quella degli assessori e dei vicepresidenti del Consiglio, 7.476 per i capigruppo e presidenti di commissioni, 7.049 euro per i tre consiglieri semplici. Evidentemente i ragionieri hanno applicato sull'ordo di 9.000 euro, 6.000 per l'indennità di mandato e 3.000 per l'indennità di funzione, una trattenuta fiscale e previdenziale del 60%, riducendo così da 9.000 a 3.400 euro il netto che, sommato ai circa 5.000 euro di rimborsi spese esentasse, darebbe il totale calcolato da Niro. Secondo, ai numeri diffusi da Palazzo Moffa deve essere aggiunta comunque l'indenità per i portaborse di 2.451 euro netti mensili, intascati senza obbligo di rendicontazione e senza obbligo di indicarli nella dichiarazione dei redditi, come se si trattasse di una pensione erogata ai superstiti della Seconda Guerra Mondiale. Tra l'altro, a margine della protesta organizzata ieri dal Movimento 5 Stelle, i due presidenti, Frattura e Niro, hanno incontrato una delegazione di manifestanti, alla quale hanno spiegato le loro ragioni. Gli stipendi sono in linea con quelli di altre regioni, hanno detto, e un ritocco al ribasso avrebbe creato problemi di disparità con le decisioni assunte dalla conferenza dei presidenti delle assemblee regionali. I consiglieri del Molise lavorano 12 ore al giorno, come gli altri hanno aggiunto, e non sarebbe giusto penalizzarli. Sarà, ma per quale ignoto motivo gli inquilini di Palazzo Moffa, unici in Italia, devono sommare agli stipendi imposti da Monti anche l'indenità per i portaborse? Perché non abrogarla? E allora, onore a chi, come Domenico Ioffredi, ha annunciato che rinuncerà ai 2.451 euro, ma purtroppo una rondine non fa primavera.